Ritorno a Taranto per la terza edizione, l'incubatore fraterno d'impresa Coviamo. L'iniziativa, organizzata da Contatto APS assieme a ONI, Trasformazioni Generative di Milano e Camera di Commercio di Taranto, accompagna le start-up verso la creazione di imprese capaci di creare lavoro e generare valore sociale, ambientale e culturale, con il avvincolo della sostenibilità ambientale. L'incubatore fraterno si rivolge ai cittadini pugliesi, gli aspiranti imprenditori dovranno far pervenire le proprie candidature online entro le 13 del 31 gennaio 2023, sul sito www.rigeneriamoci.com slash col trattino Coviamo. Per gli ammessi sarà prevista una quota di partecipazione. Una delle novità è che abbiamo portato in giro un laboratorio di Coviamo in diverse realtà, Crespiano, Martina e altre realtà, dove stiamo presentando l'incubatore fraterno. Da febbraio partirà la terza edizione che mira sempre ad accompagnare i giovani meno giovani a fare impresa nell'ottica dell'ecologia interiale. Dal primo momento, questa è la terza edizione, abbiamo partecipato con grande entusiasmo a questa iniziativa. Ritenevamo che fosse una concretizzazione sul territorio di quanto come Camera ci siamo impegnati a fare da moltissimi anni a questa parte sull'economia sostenibile. Grazie. Grazie.